Via Libera e lavori per la realizzazione della filovia sull'ex tracciato ferroviario, la cosiddetta strada parco. Il Ministero dei Trasporti ha infatti rilasciato il nulla a osta tecnico per il progetto che andrà a collegare Pescara e Montesilvano, per il quale era stata presentata una perizia di variante. Siamo arrivati alla dirittura finale, abbiamo il rilascio dell'ultima autorizzazione che fa riferimento alla terza variante, ma soprattutto credo che ci sia da sottolineare un dato che è glatante per l'Italia. Dopo un finanziamento di 30 anni fa, la conclusione del percorso, possiamo dire, viene fatta senza aumento del finanziamento, anzi con riserve a disposizione che verranno utilizzate per le ulteriori modifiche che stiamo predisponendo. Il mese prossimo dovrebbero partire i lavori per garantire la larghezza di 7 metri su tutto il tracciato, l'ampliamento dei marciapiedi e la rimozione degli ostacoli. Benché alcune delle opere realizzate anni fa, come le pensiline, dovranno essere abbattute e rifatte, Giulianti garantisce che non verrà speso un euro in più di quanto già stanziato nel progetto di oltre 20 anni fa. Ci sono state delle economie che noi utilizzeremo proprio per la terza variante, con la quale andremo a mettere a punto dopo 20 anni alcune situazioni che nel tempo sono state oggetto di revisione. I primi due dei mezzi ibridi autosnodati consegnati dall'azienda belga Van Hul entreranno in funzione a gennaio 2022. Entro ottobre dell'anno prossimo vedremo circolare sulla strada Parco tutti i veicoli. I lavori di questo terzo lotto che, diciamo così, fa riferimento alle migliorie partiranno da subito. Basterà la comunicazione ai comuni di Pescara e di Ponte Silvano, soprattutto Pescara, dove ci sono da fare la maggior parte dei lavori. Ci mettiamo d'accordo con la litta, quindi con un mese, un mese e qualcosa partiranno. Per quello che riguarda l'arrivo della prima tranche di autobus, che sono stati già ordinati, la previsione è del mese di gennaio del 2022. Quindi potremo, diciamo così, probabilmente, lo speriamo incrociando le dita, inaugurare l'opera all'inizio del 2022.